Antonio Scotto, parliamo di infertilità di coppia, però dal punto di vista maschile. Un lato poco esplorato, quasi silente, c'è un retaggio, c'è un po' di vergogna. Sì, c'è ancora un leggero retaggio, anche se per nostra fortuna questo è stato un po' superato. C'è ancora qualche piccola difficoltà affinché il paziente maschile si sottoponga agli esami che occorrono. Quello è vero, soprattutto ancora al sud. Però anche l'infertilità maschile, chiamiamola così, è ormai abbastanza sdoganata. Ed è questo il motivo per cui chi fa fecondazione assistita debba avere una cultura anche in questo campo. È generalmente lasciata, la valutazione del maschio è generalmente lasciata all'urologo o al cosiddetto andrologo. Ma non è pensabile oggi, per un medico che fa fecondazione assistita, non sapere di andrologia. Perché è una materia che noi vediamo tutti i giorni, sono pazienti che vediamo tutti i giorni. La patologia che generalmente più si riscontra è quella del varicocele. Il varicocele è fondamentalmente una dilatazione del plesso venuso a carico dei testicoli. Questo che cosa comporta? Comporta un aumento della temperatura a carico dei testicoli e quindi una formazione, diciamo, anomala degli spermatozoi. È presente in circa il 20% dei maschi, dei maschi sia normalmente fertili che ipofertili. E la presenza del varicocele non è detto che sia per forza causa di ipofertilità maschile. Che cosa comporta? Comporta generalmente, quando responsabile di infertilità, una modificazione di tutti e tre i parametri principali del liquido seminale. Il numero, la morfologia e la motilità. Quando si riscontrano alterazioni in tutti e tre di questi parametri è giusto andare a indagare sull'eventuale presenza di un varicocele. Dopodiché la decisione clinica di intervenire o meno è anche molto legata al tipo di coppia che noi abbiamo. In che senso? Nel senso che se si valuta che la paziente femminile non abbia apparentemente alcun tipo di anomalia o che i valori siano tutti nella norma, può essere corretto consigliare l'eventuale intervento per eliminare il varicocele. Se invece anche la paziente femminile ha delle alterazioni per cui si pensa già a priori di dover intervenire con una procedura di fecondazione assistita di secondo livello, cioè quella che viene detta la fecondazione in vitro, l'intervento di varicocele aiuta poco. È preferibile utilizzare quello che noi abbiamo nel tentativo di avere una gravidanza. Ecco dottore, ma è vero che gli studi lo hanno dimostrato, l'uomo moderno è meno potenzialmente procreatore, nel senso che ci sono fattori climatici nell'evoluzione dell'uomo rispetto, insomma, l'uomo di oggi rispetto ad un uomo di 100-200 anni fa ha più difficoltà a procreare. Guardi, non è solo il paziente maschile, è la coppia che oggi ha più difficoltà ad avere gravidanza. Anche la coppia giovane, oggi si ritrova ad esempio, faccio un esempio molto semplice, spesso si sente parlare dell'ormone, per quello che riguarda la donna, dell'ormone antimulleriano, che è un marker per la valutazione della riserva ovarica. Oggi molto spesso, indagando su questo ormone, si vede che anche in pazienti particolarmente giovani, questo ormone è molto ma molto basso rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Quindi certamente, probabilmente, l'igiene di vita che è cambiata, la nostra, quelle che possono essere i danni dovuti ai telefonini, dovute a tutta una serie di cose, certamente hanno portato a un decremento di quella che è la fertilità della coppia. Ecco, dottore, lei fa studio non soltanto a Napoli, ma anche in altri posti dell'Italia, anche al nord. Nota una differenza, una disomogeneità sul territorio o abbiamo una situazione uguale sia per quanto riguarda il maschio al sud, al nord e al centro? Purtroppo e per fortuna, diciamo, la situazione è abbastanza simile dovunque si lavori, nel senso che la percentuale di coppie che ha difficoltà ad avere una gravidanza è più o meno simile al di là di quello che può essere il luogo, soprattutto in Italia. Ci può essere una differenza di approccio alla problematica, ma questo è dovuto molto al livello socioculturale della coppia. Quindi a volte si trova più difficoltà a spiegare ai pazienti qual è la problematica, quale possono essere le strategie terapeutiche e quale possono essere gli eventuali risultati. Quindi dipende sempre da chi si ha di fronte. ci può essere una maggiore o una minore difficoltà nel comprendersi, questo certamente, ma questo anche perché si fa proprio poca informazione. Le faccio un esempio. Molto spesso, e sempre più spesso, mi capita di avere pazienti che superano largamente i 40 anni e che pensano di poter avere la stessa percentuale di gravidanza di una ragazza di 20. Mi capita di interlocchiare con donne di 50 anni che solo perché hanno il ciclo mestruale pensano di poter avere una gravidanza in maniera spontanea e quindi quando poi si fa dire che è quasi impossibile avere una gravidanza a 50 anni rimangono un attimo basite. Questo è il problema della mancata informazione, della corretta informazione nei confronti dei pazienti.